www.feyyaz.tv 8 anni fa faccio l'imprenditore e in questo momento mi trovo agli arresti domiciliari. È la teoria del mondo di mezzo, compà. Ci stanno come si dice, i vivi sopra e i morti sotto. E noi stavi in mezzo. Io prendo la vendita delle immobili alla cea. E questo affare ci guadagno anch'io. Se salto io, saltate tutti. Ho saputo che sta per pubblicare una lista di persone che hanno trasferito i propri soldi in Svizzera. Monsignor, abbiamo una certa urgenza perché sono già a partire le richieste per la locatoria. La crisi non fa sconti a nessuno e la chiesa non si governa con l'Ave Maria. Ti stanno preparando i bagagli con tutte le tue cose dentro. Oggi ti vai a bersare questi perché ti mostra sempre dentro di 3500 se non scatta l'antiriciclaggio. Sai quanto ci frutta l'emergenza abitativa? Chiude il traffico di droga. L'inchiesta Mafia Capitale ha fatto scattare le manette a... Il mondo di mezzo. Un film di Massimo Scagliuno. Da maggio al cinema.